Cinque vittime in poche ore. Il coronavirus continua ad avere effetti devastanti sulla popolazione molisana. Le forze dell'ordine piangono. Alfredo Lestini, medico superiore della Polizia di Stato, il Covid lo ha sconfitto. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli, dove venne trasferito lo scorso 23 febbraio. Ha lottato, ma non ce l'ha fatta. Aveva 63 anni. Un esempio per tutti, una persona speciale che ha lasciato il segno. Non ce l'hanno fatta. Altre quattro persone. Decessi avvenuti nelle scorse ore, non inclusi dunque nel bollettino ufficiale dell'azienda sanitaria regionale. Tra i centri più colpiti in proporzione alla popolazione c'è Montelongo. Due i decessi in paese in queste ore. Una donna di 72 anni. Si tratta dell'insegnante Concetta Terzano, che era sopravvissuta miracolosamente al crollo della scuola Iovine a San Giuliano di Puglia, ed un uomo di 71 anni. Vittime anche a Termoli, persone di mezza età, un 56enne deceduto al Neuromed di Pozzilli ed un 55enne che era ricoverato a Roma a Casal Palocco, dove era stato trasferito con la cross.